Se Confindustria applaude aspettando i decreti attuativi, la CGL boccia il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati di riforma degli istituti tecnici superiori che con il nome di ITS Academy entrano a far parte integrante del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Nuove istituzioni a cui è affidato il compito di potenziare e ampliare la formazione professionale. Una riforma inadeguata nella dotazione economica e poco condivisibile nel merito scrivono CGL ed FL Cilecco. Le risorse pubbliche stanziate per il progetto, poco più di 48 milioni di euro infatti, sono decisamente insufficienti a promuovere un'offerta didattica che produca elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. In più queste risorse vengono indirizzate verso un'ulteriore privatizzazione di una parte rilevante del sistema formativo. Non c'è stato un vero confronto con le parti sociali, il commento di Diego Riva, segretario generale CGL Lecco e Michela Magni, segretario generale FLC CGL Lecco. Si utilizzano fondi pubblici per consegnare la formazione in mano alle esigenze dei privati quando in realtà la scuola dovrebbe servire innanzitutto a formare giovani consapevoli e pensanti. Così c'è il serio rischio che chi ha già beneficiato in questi anni di cospicui incentivi si accapari anche le risorse del PNRR, destinata alla crescita culturale delle ragazze e dei ragazzi. Sarebbe inoltre necessario inserire questo disegno di legge dentro un percorso di riforma organica della scuola. Si tratta infine di un intervento che non tiene in considerazione nemmeno la stabilità del personale docente e amministrativo che verrà assunto tramite contratti di prestazione d'opera e sarà dunque precario.